È sbagliato vivere il dolore in maniera passiva o ribellandosi. Gesù invece ci insegna a vivere il dolore accettando la realtà della vita con fiducia e speranza, mettendo l'amore di Dio e del prossimo anche nella sofferenza e l'amore trasforma ogni cosa. Lo ha detto Papa Francesco, ricevere le associazioni e i centri che si ispirano all'opera del Beato Luigi Novarese. Ai malati e ai sofferenti, Papa Francesco ha ricordato che il Beato Novarese insegnava a valorizzare le sofferenze all'interno di un'azione apostolica portata avanti con fede e amore per gli altri. Con questo carisma insistito il Papa, voi siete un dono per la Chiesa e siete soggetti attivi dell'opera di salvezza ed evangelizzazione.